Hey, bentornati e bentornate. Oggi parliamo dei cosiddetti cervelli in fuga, in realtà del loro rientro che i veri governi cercano di incentivare, mentre quest'ultimo pare in qualche modo voler imprimere un cambio di lotta causando non poche proteste. Torniamo a chiederci se l'eutanasia sia sempre lecita, anche quando si parla di depressione, patologie mentali e addirittura dipendenze, visto che a chiederselo nell'ultimo periodo il Canada, ma prima dobbiamo parlare un po' di qualcosa che l'anno scorso aveva acceso tante speranze, cioè il rovesciamento della teocrazia iraniana guidata da Ali Khamenei. Speranza completamente naufragata a discapito, soprattutto delle giovani iraniane. Il 16 settembre 2022, poco più di un anno fa, la 22enne Masa Amini moriva in un ospedale di Teheran. Con la morte innescò le peggiori proteste affrontate dal governo iraniano, almeno dal 2009, che causarono l'uccisione di almeno 500 manifestanti, che pur essendo formalmente tuttora in corso, hanno di fatto esaurito la loro intensità circa nella primavera di quest'anno. Masa Amini, ve la ricorderete, morì in un centro di detenzione in cui era stata portata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente l'ijab. Le proteste vertevano infatti sulla libertà di indossare o meno il velo, per poi divenire più genericamente indirizzate alla teocrazia iraniana. A un anno di distanza ci ritroviamo a riparlare della questione per una triste ragione. Ieri infatti un canale iraniano ha diffuso la notizia della morte cerebrale di un'altra giovanissima ragazza precedentemente in coma, Armita Jaravan, eccola qui, che di anni ne aveva solo 16, che però in Iran sono sufficienti per essere già sposate da 3 e in generale le donne raggiungono la maggiorità a 9 anni, che c'è questo. Potrebbe sembrare che parliamo di una bambina a 16 anni e invece no, e invece no, parliamo di una donna evidentemente. Non c'è niente da ridere, sto cercando di tirar fuori qualcosa di... però è una cosa terribile. Non c'è niente da ridere. Ovviamente molti hanno fatto un parallelismo tra le due morti, ad esempio è capitato di vedere il video della telecamera di sorveglianza girato in una fermata della metro di Tehran il primo ottobre, in cui si vede Jaravan entrare con due amiche in un vagone senza hijab, per poi essere tirata fuori di peso, incosciente, fuori dalla metro. Qui la versione della polizia delle amiche è diversa, perché mentre entrambe le versioni concordano sul fatto che la ragazza sia svenuta per aver sbattuto la testa, la polizia dice che la ragazza avrebbe sbattuto la testa per un calo di zuccheri, quindi sarebbe semplicemente svenute e accasciandosi avrebbe battuto la testa in terra, mentre le amiche hanno immediatamente parlato di un pestaggio avvenuto proprio perché la ragazza non indossava hijab. Ora, subito dopo quell'avvenimento, Jaravan è entrata in coma per un trauma cranico ed era stata portata dalle autorità in un ospedale militare a Tehran, nel reparto di terapia intensiva per essere decisi, sorvegliato ovviamente da agenti che, stando alle associazioni per i diritti umani e almeno per il primo periodo, non hanno nemmeno permesso ai genitori di visitare la figlia e da subito in generale era stata fatta notare la mancanza di trasparenza da parte delle autorità iraniane. Ad esempio non sono immersi altri video della vicenda, magari da altre prospettive, oppure un gruppo di sindacati di insegnanti hanno raccontato come il ministro dell'istruzione abbia minacciato i docenti della scuola superiore di Armita di licenziarli se avessero deciso di parlare della ragazza e ancora ai giornalisti non è stata data la possibilità di avvicinarsi all'ospedale per documentare la questione. E non è una novità che in queste circostanze vengano allontanati proprio i giornalisti che possono portare gli avvenimenti all'attenzione internazionale, che è molto, molto, molto poco gradita alle autorità di Tehran. Ad esempio, negli scorsi giorni, due giornaliste che avevano coperto mediaticamente la morte di Masamini sono state condannate a più di dieci anni di carcere, sia per aver collaborato con lo stile governo statunitense, immagino volendo che la questione ottenesse attenzione internazionale, sia per aver agito contro la sicurezza nazionale, avendo di fatto contribuito ad accendere le proteste. E questo la dice lunga su cosa potrebbe succedere ora, dopo che le proteste dell'anno scorso sono state represse nel sangue, con decine di migliaia di arresti, e dopo che chi fa informazioni sulle questione di scome dal governo iraniano, viene semplicemente isolato, messo in prigione, sparisce. Smette, smette di fare questo lavoro, volontariamente. Ecco, fa un certo effetto pensare che in questo contesto di paura, a combattere per i diritti del proprio futuro, siano soprattutto le giovani donne, che continuano a rischiare la vita, anche se giovanissime, e soprattutto con l'ipotesi neanche troppo astratta che tutto questo non serve a nulla. Realisticamente, infatti, la morte di Armita Geravan non avrà lo stesso impatto sociale che ha avuto quello di Masa Amini, perché di fatto l'anno scorso, contro ogni previsione, il governo è riuscito a ridimensionare le proteste senza fare un passo indietro sull'obbligatorietà dell'Ijab, cosa che quindi credo ci porti a una questione che ormai è sul piatto. È ancora possibile immaginare che, soprattutto in questo polo del mondo, dominato da Russia, Cina e Iran, siano i cittadini a poter imprimere un cambiamento, migliorare le proprie vite, emanciparsi da sistemi tanto oppressivi? O davvero l'unica cosa che conta è quello di cui questi regimi sembrano avere paura? Cioè un intervento esterno, occidentale, a poter ribaltare una meccanica che sembra altrimenti impossibile da scalfire dall'interno? Ora, mi rendo conto che affrontare il tema del lavoro nel nostro paese sia una questione gigantesca, di mille sfumature che tengono conto di condizioni di lavoro, stipendi più o meno alti, tutti i fattori che incidono ovviamente sulla nostra quotidianità e su come il lavoro ci consente di vivere al meglio la nostra esistenza. Dinamiche che spesso portano a scelte difficili e complesse, come ad esempio lasciare l'Italia in nome di un lavoro e di una vita più dignitosa. La sanità in questo senso ci può aiutare ad affrontare questo discorso, dato che soprattutto per quanto riguarda gli infermieri, parliamo di una professione che non solo non attira più i giovani, che sempre di meno si iscrivono ad esempio alle professioni sanitarie, ma anche di un lavoro sempre più incline a stipendi bassi, tanti straordinari, oltre che turni che lo sanno tutti sono difficili. Direi massacranti se facessi parte dell'intelligenza dei giornalisti, però basta dire che sono turni complessi, lo sappiamo. A fronte di questa situazione ha fatto parecchio discutere una vicenda degli scorsi giorni che ha coinvolto il direttore del pronto soccorso del Policlinico di Bari, il primario Vito Procacci, a cui era stata recapitata una sanzione di circa 27.000 euro per presunte irregolarità nella gestione dei turni e degli straordinari fatti da primari, medici e infermieri dal giugno 2021 al settembre 2022. Se ne era parlato un sacco. Ci riferiamo ovviamente a un periodo complicato per quanto riguarda la situazione sanitaria che il nostro paese stava vivendo, perché eravamo ancora in piena pandemia, dove ci ricordiamo bene di come il personale sanitario, proprio in quel drammatico momento di unità nazionale, fosse diventato eroico, con orari e turni massacranti, che erano permesso però di salvare tantissime vite. Quindi c'era comunque la narrazione del popolo eroico. Ma al netto di questo c'è anche un lato, un aspetto su che è necessario riflettere, che si sposta da un lato, diciamo, più umano a un lato più pragmatico. E comunque umano. Mi spiego, adesso sarà tutto chiaro. Infatti l'ispettorato del lavoro, che al momento in cui sto registrando ha sospeso la sanzione, in attesa che la questione che è assurda alle cronache nazionali diventi più chiara, in qualche modo, aveva ricevuto una denuncia, presumibilmente da qualcuno all'interno, e tenuto conto dei turni e degli orari di lavoro, aveva riscontrato diverse irregolarità, in merito ai riposi giornalieri, settimanali, alla quantità di straordinari e alle dinamiche del lavoro notturno svolto in reparto. Ora, non so quanto questo possa stupire, dipende da quanto addentro si sia alle dinamiche del mondo della sanità, immagino, soprattutto dei pronto soccorso, perché se questo tipo di pressione non dovrebbe esistere in particolar modo per un lavoro molto delicato come quello che svolgono i sanitari, c'è da dire che, in generale, spesso e volentieri, questi sono costati a scegliere addirittura tra rispettare le procedure normali di lavoro oppure garantire il servizio sanitario, scelta che mette in contrasto di fatto due principi fondanti della nostra Repubblica, cioè il rispetto delle condizioni di lavoro e la vita dei pazienti. Ecco, proprio su questo punto si è concentrata la difesa del direttore del pronto soccorso Procacci, tanto che in una lettera inviata al presidente Mattarella ha voluto sottolineare come durante il periodo del Covid il policlinico di Bari, grazie al lavoro di primari, medici e infermieri, si è riuscito a salvare la vita a più di 8500 pazienti, di cui 1600 ventilati meccanicamente. Ovviamente, al netto di come la si pensi, perché da una parte è normale che uno faccia quello che può con limitate risorse per non chiudere l'ospedale, dall'altra quelle risorse se le esprimi così tanto a un certo punto mollano, e non è un caso che qualcuno abbia fatto la soffiata all'ispettorato, le irregolarità riscontrate al policlinico di Bari sono figlie di un più generale decadimento della professione sanitaria, fatta di carenza di personale, dato che parliamo di più di 30.000 medici e 60.000 infermieri che mancano all'appello negli ospedali pubblici, che è una conseguenza figlia anche e soprattutto di stipendi bassi che spinge chi è già nella professione, formato nelle università italiane, a fare le valigie e andarsene. Peraltro è molto interessante che ovviamente sovverchiato dallo stress, dal carico di lavoro e tutto quanto, i medici e gli infermieri se ne vadano, quel carico di lavoro diventi ancora di più per chi resta, che quindi a un certo punto sarà portato ad andare via anche egli, cioè è un circolo vizioso che si autoalimenta. Questo è uno di quei problemi che non stiamo risolvendo, ma che se lasciati a morire vanno velocemente in peggioramento, molto velocemente, perché tutto diventa sempre più insostenibile e sulle spalle di sempre meno individui. È un problema enorme. Negli ultimi mesi stiamo assistendo, peraltro, a un fenomeno tutto nuovo in cui i medici e più in generale i professionisti sanitari che decidono di lasciare l'Italia non lo fanno solo per andare in paesi che storicamente hanno rappresentato una meta professionale, ma addirittura per i paesi arabi. Parliamo principalmente di Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Bahrain, in cui c'è molta richiesta e ovviamente parliamo di stipendi completamente diversi da quelli italiani, oltre alla possibilità di vedere valorizzata la propria posizione lavorativa. Che poi, alla fine, non è solo una questione di medici, ma più in generale è ascritta, come dicevamo in apertura, al famoso problema dei cervelli in fuga. Non è solo i medici, è tutti. Il nostro paese, infatti, ha notoriamente spinto verso l'estero tantissime figure altamente professionalizzate, proprio perché il mercato del lavoro in Italia spesso e volentieri non offre gli stessi vantaggi di un lavoro all'estero. Parliamo di un fenomeno che, secondo l'Istat, tra il 2012 e il 2021 ha visto più di 335.000 giovani, tra i 25 e i 34 anni, trasferirsi all'estero con soli 94.000 che nello stesso periodo sono tornati in Italia. E peraltro parliamo di cifre sottostimate che non tengono cioè conto della portata effettiva di un fenomeno che il nostro paese, dal 2019, ha provato ad arginare, con soluzioni e agevolazioni perché rientra dall'estero attraverso il cosiddetto decreto crescita. Grazie a questa manovra i lavoratori con almeno due anni all'estero, che stabiliscono per almeno due anni la residenza in Italia, possono usufruire di una riduzione delle tasse del 30% del reddito imponibile per un periodo di 5 anni. E con questo decreto si è provato a invertire la tendenza della fuga dei cervelli. E incredibilmente, oserei dire, in qualche caso questa cosa aveva convinto diverse famiglie a tornare in Italia, mettere su casa, vivere qua, proprio in funzione delle agevolazioni del decreto crescita. E probabilmente anche dell'effetto della nostalgia, ma ci torniamo. Ma la cosa incredibile, ancora più incredibile, è che forse queste agevolazioni mo' gliele tolgono. Infatti il Consiglio dei Ministri, nell'approvare le misure per il disegno della legge di bilancio, cioè sulle previsioni di entrata e spese del governo per il prossimo anno, ha presentato anche una modifica inerente il decreto crescita, dove è prevista una riduzione dell'agevolazione per chi torna in Italia. Ora, per quanto non siano misure definitive, lo diciamo, perché sono attese all'esame del Parlamento che deve approvarle, questa scelta fa già discutere, dato che il testo presentato dal Consiglio ha deciso di aumentare il regime di tassazione dal 30 al 50%, peraltro introducendo un tetto di reddito di 600 mila euro massimi per utilizzare questi sgravi ed eliminando, in un altro punto del decreto crescita, una tassazione ancora più bassa, al 10%, per quei lavoratori che rientrando dall'estero avessero deciso di stabilirsi al sud, che è un luogo che ha ancora maggiore carenza di un certo tipo di figure. Tutto tolto. Ora, qui le cose veramente interessanti che ci raccontano la percezione della politica e della società rispetto a ciò che è il paese e cosa è destinato a divenire sono due. La prima è che questa modifica del decreto crescita sono esenti alcune categorie, parliamo di ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport, ma non i sanitari, nonostante la situazione è disastrosa e le paghe lontanissime, anche solo dalla media europea, segno del fatto che questo è uno dei problemi di cui le persone, non affrontando tutti i giorni i ricoveri, la vita in ospedale, il pronto soccorso, hanno contezza solo quando è troppo tardi, solo quando ci vanno in ospedale. E tendono ovviamente a prendersela con i medici, con gli infermieri, non con il sistema che ha creato la situazione. Ma soprattutto c'è un punto due, un punto direi politico. Non dice veramente tantissimo del nostro paese, e qui non parlo nemmeno di questo governo, ma di tutti quelli passati, che invece di provare a rendersi attrattivo, non solo per i medici italiani, ma per quelli greci, turchi, serbi, croati, spagnoli, che ne so, sfrutta l'effetto nostalgia e lo specchietto per all'odole della decontribuzione. Perché qua, qual è la logica? La logica è, sei italiano, lo sappiamo che ti manca l'Italia, perché qui hai i tuoi amici, i tuoi affetti, la tua famiglia, quindi come ogni persona del mondo vuoi tornare a casa, perché nessun posto è come casa. E allora, invece di rendere il paese attrattivo in questo senso, creare un sistema che permetta a queste figure di crescere, di stare bene, di avere uno spazio nel quale realizzarsi professionalmente, sai che è tutto un casino, e allora un po' di tasse in meno, dai, tu torna un po' di tasse in meno. Ma non ci rendiamo conto che così il paese muore, perché noi non abbiamo soltanto bisogno che i giovani che sono andati all'estero tornino indietro, perché in molti casi quel treno è perso, un giovane che ormai vive da molti anni all'estero ed è andato via a 24 anni, a 26, probabilmente starà lì, a un certo punto si stabilisce lì e da giovane adulto diventa un adulto e si crea un suo bacino. Succede molto spesso così, un suo bacino di amicizie, degli affetti, si crea una nuova vita. Quello che noi dobbiamo fare è creare un paese per cui il meccanismo che si innesta nelle persone è, sai cosa, sono un medico, ma sogno di andare a lavorare in Italia, perché lì sì che la medicina funziona, lì sì che sarò valorizzato. Invece noi puntiamo tutto su un effetto malinconico, un po' decadente. Lo so che le cose vanno un po' male in Italia, però voglio tanto ritornarci perché il paesello, la casina, non è terribile, secondo me è terribile questa cosa. Noi abbiamo rinunciato alla possibilità che questo paese possa essere grande in futuro, è tutto un mettere pezze, è tutto un volete andare via ma non andate via, non andate via tutti perlomeno, qualcuno resti, qualcuno resti, almeno per i prossimi anni. Ma non c'è un'idea di un futuro possibile, grandioso, è tutto un guardare indietro. Noi camminiamo in avanti, però girati verso dietro, guardando al passato. E secondo me il vero problema è qua, è proprio l'idea di paese, l'idea di futuro, l'idea di Italia. In chiusura, è importante che vi avvisi che nei prossimi minuti parleremo sia di eutanasia ma anche di disturbi mentali e dipendenze, tutto assieme. Per cui nel caso fosse particolarmente sensibile a questi temi, siate ne consapevoli. Ci tengo infatti a portare attenzione su un discorso che in questi mesi sta animando molto la politica canadese, perché a marzo dell'anno prossimo la possibilità di poter accedere all'eutanasia verrà estesa anche alle persone che hanno una patologia soltanto mentale, eventualità in cui viene inclusa anche la dipendenza da sostanze. Controverso. Prima di vedere nel concreto in cosa consista questa estensione però, su cui il discorso è in realtà ancora aperto ma ci arriviamo, cerchiamo un attimo di capire come effettivamente funziona il fine vita medicalmente assistito in Canada. E senza troppe sorprese segue le stesse pratiche ormai consolidate in questi casi. Infatti è necessario essere affetti da una patologia o da una disabilità che siano croniche irreversibili, condizione che deve essere certificata da almeno due team di medici indipendenti, è prevista solo in caso di persone maggiorenni e che possono effettuare la scelta in autonomia. E in caso di idoneità o il medico o la stessa persona possono a quel punto, hanno via libera diciamo, e possono somministrare, o appunto somministrarsi nel caso lo faccia direttamente la persona coinvolta, le sostanze necessarie per di fatto porre fine alla loro vita. Ora, legge che regola questo tipo di procedura in Canada è entrata in vigore nel 2016, ma è stata rivista nel 2021, prevedendo a un certo punto questa estensione anche alle persone affette solo da patologie mentali. Estensione che sarebbe dovuta entrare in vigore nel marzo scorso, in modo da dare il tempo a una commissione di valutare metodi e protocolli più opportuni. Ma in seguito alla pubblicazione del loro report, il governo del Canada aveva deciso di posticipare ulteriormente l'estensione della legge per consentire ulteriori discussioni, fissando come nuova data di entrata in vigore il 17 marzo del prossimo anno, quindi prendendosi un altro anno. Anno che però è agli sgoccioli e questo non ha placato le polemiche, anzi le polemiche sono ancora tantissime. Fate conto che solo pochi giorni fa una legge proposta dal Partito Conservatore del Canada per escludere i disturbi mentali dall'essere considerati come condizioni mediche gravi e irreversibili, nell'ottica appunto della legge sul fine vita, è stata respinta in Parlamento, generando però una discussione tale, in merito, che i partiti hanno comunque deciso fosse opportuno chiedere un'ulteriore analisi a una commissione parlamentare speciale, che dovrà quindi esprimersi al massimo entro la fine di gennaio del 2024, in modo da dare il tempo di valutare la situazione prima che l'estensione della legge entri in vigore a tutti gli effetti. Perché questo discorso di considerare le malattie mentali, i disturbi mentali, come possibili trigger di attivazione dell'eutanasia è un po' controversa. I motivi per cui l'inclusione delle malattie mentali è così controversa sono in realtà presto detti e sono anche abbastanza scontati. Il timore principale è che l'eutanasia, come pratica, finisca in un certo senso per soppiantare il resto dei trattamenti utilizzati sinora per curare le patologie mentali, che si finisca quindi insomma per normalizzare la morte come alternativa alla cura. O ancora peggio, che si scelga di farla finita per ragioni che vanno oltre la sola malattia mentale, come ad esempio persone in gravi situazioni di povertà, senza fissa dimora, argomenti che diventano ancora più accesi se consideriamo che nella categoria, oltre ai disturbi mentali, potrebbero potenzialmente essere incluse anche quelle persone che soffrono di abuso cronico di sostanze. E quando si finisce a parlare di questo, quando si finisce a parlare di persone che hanno un problema con l'alcol, un grave problema con l'alcol, o che hanno problemi di dipendenza dalle droghe, lì è estremamente complicato considerare queste persone come necessitanti di aiuto, perché entra quel meccanismo per cui te lo sei andato a cercare e poi richiedi pure l'eutanasia. L'argomentazione in questo caso è che, nonostante tutte le altre misure di aiuto e di supporto siano molto carenti in Canada, e stiamo parlando del Canada, figuratevi la situazione in Italia, si preferisca dare libero accesso all'eutanasia così per liberarsi dal problema, piuttosto che finanziare nuovi centri anti-overdose, per dirne una. Mentre le opinioni favorevoli si concentrano sul fatto che sia comunque molto difficile accedere alle procedure sul fine vita. Non basta, insomma, a prescindere di chiarare di volerla fare finita, perché il tuo terapeuta ti convinca a scegliere la morte piuttosto che un percorso di recupero. Perlomeno non dovrebbe succedere. E in qualsiasi caso viene fatta comunque a monte una valutazione su quali percorsi siano stati tentati in precedenza e su quanto concretamente la condizione della persona sia irreversibile, dolorosa e senza via d'uscita. Distinguendo, insomma, tra chi ha tendenze suicide, più o meno legate alla sua patologia, e chi abbia una volontà ragionata per porre fine alle sue sofferenze. Tenendo conto che, comunque, soprattutto quando si parla di abuso di sostanze, distinguere questi due elementi, tracciare una linea, è una cosa estremamente complicata. Io questa responsabilità non la vorrei per tutto l'ora del mondo. In ultima analisi, insomma, l'argomento è non solo molto spinoso, ma anche gigantesco. Potremmo spendere un'intera puntata nello sviscerarne le implicazioni e avremmo solo scalfito la superficie. Perché il problema è questo. Quando si discute del fine vita, è imperativo a tracciare una linea, tra quali siano le condizioni per cui uno stato decide che sì, hai il diritto di mettere fine alle tue sofferenze nel modo più umano possibile, e quando invece esiste un metodo alternativo riconosciuto dalla medicina, e non lo puoi fare. Lo stato ti dice che una certa cosa, invece, non la puoi fare. E non esiste una soluzione perfetta, perché ovviamente sono questioni che poi attengono all'etica di ognuno, al valore che ognuno dà a certi aspetti dell'esistenza, al valore stesso dell'esistere sia in società che come individui. È estremamente complicato. Ed è probabilmente una delle decisioni più difficili che uno stato, uno stato democratico, uno stato che si interessa del desiderio dei suoi cittadini, di cosa pensano i suoi cittadini, si possa trovare a prendere. Non l'Italia, perché in Italia di questa roba qui ancora non si parla, però a un certo punto dovremmo legiferare pure noi. A un certo punto. E questo era tutto per oggi. Grazie per aver guardato. Un ringraziamento ancora più grande a chi ha deciso di sostenerci tramite il sistema di abbonamento del Breaking Italy Club, alle persone che stanno entrando in questi giorni, che abbiamo ricominciato a lavorare. Questi giorni sono passate delle settimane, forse dei mesi, però per me il tempo non ha mai veramente senso. E grazie a chi ci supporta da sempre, perché ci avete permesso di arrivare sino a qui e puntare a nuovi obiettivi. Quindi, grazie mille. Breaking Italy Club, se voleste entrare nella grande famiglia, quanto detesto le persone che utilizzano il termine famiglia a proposito. Soprattutto nei posti di lavoro. Se vi dicono siamo una grande famiglia, dovete scappare con un deltaplano. Dovete proprio montarvi il deltaplano e dalla finestra andare verso i monti. The Office non vi ha insegnato niente.